Rincari in arrivo sulle bollette dell'energia elettrica. Dal 1 ottobre infatti la bolletta elettrica aumenterà del 40%. Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenterà del 40%, sottolinea il ministro Cingolani. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle. Succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo dell'anidride carbonica prodotta. Due quindi gli elementi che hanno determinato questi aumenti folli, il ritorno delle aziende a pieno regime, il che porta a un maggior consumo di energia e l'aumento del prezzo dell'anidride carbonica. E ovviamente il prezzo viene gradualmente aumentato per spingere il più possibile le imprese a utilizzare sistemi di energia puliti. Questo sistema si riflette sui costi di produzione che aumentano e quindi ecco spiegati i rincari in bolletta. Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovute a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie, assicura Cingolani.